ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti su Lele King TV si ritorna con la TrenXL 2021-2022 abbiamo altre 5 bustine da andare ad aprire per inserire nel nostro raccoglitore poi in un secondo momento ragazzi intanto apriamoci ci sono sicuramente le plus e ci sono anche le bustine normali speriamo di trovare qualcosa di veramente succolento in questo spacchettamento qualcosa di interessante magari in top player ragazzi che ce n'ho solo i top player e poi c'ho la carta invincibile che ce l'ho non so quante volte la carta invincibile allora prima carta che troviamo è Romagnoli del Milan eccolo come al solito ragazzi scrivete sotto nei commenti la vostra card preferita fra quelle che vedrete in questo spacchettamento non prima ragazzi di aver lasciato like e essere iscritti al canale se non l'avete fatto di Mariano del Venezia poi troviamo il nostro giocatore della Sernitana Milenkovic della Fiorentina facciamo così c'è la Noglu specialista dell'Inter e ultima card è un idolo è Lazzari idolo andiamo con un altro pacchetto dai 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 con sti pacchetti dai con sti pacchetti vediamo cosa esce fuori il nostro secondo pacchetto di oggi Bairami dell'Empoli Muldur del Sassuolo Verdi del Torino D'Ambrosio dell'Inter giriamo e ci abbiamo il portierone Silvestri e Zola Super Combo del dello Spezia eccolo qua Zola vediamo il terzo pacchetto qui dovrebbero cominciare a uscire fuori le plus vediamo se è così e si e si e si troviamo Alessio Dionisi mister del Sassuolo ecco qua Demiral dell'Atalanta Magnani dell'Ellas Arnatovic del del Bologna Zielliski Stella e Super Combo Plus a Rui del Sassuolo Bene 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 vediamo cosa esce fuori da quest'altro pacchettozzo Reca Plus Beto Plus bene Samir dell'Udinese Traore e Traore del Sassuolo andiamo a vedere sotto che c'è troviamo Barrov Diamante e Radu Idolo Mamma mia sito player ragazzi non si fanno sempre aspettati non si trovano non si trovano sito player Tammi Avram l'attaccante della Roma Bellardini mister del Genova Milinkovic Savic portiere del Torino Devrai dell'Inter Mancini difensore insuperabile e Super Combo Lamantia ragazzi per questo spacchettamento è tutto ci sono alcune card molto interessanti soprattutto nelle plus io a questo punto vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti